direi che a questo punto possiamo approfittare della presenza di andrea angiolino che ospite nostro e ospite del festival ciao andrea come stai tutti benissimo finalmente di nuovo in pista tra le mura e i piccoli di luce finalmente diciamo e siamo mascherati ma non è un intento cosplay siamo costretti a metterci le mascherine per le ragioni che sappiamo ma in realtà vi posso garantire che lui è andrea angiolina che è inutile presentarlo andrea nel senso giornalista storico storico dei giochi da tavolo e scrittore di romanzi di racconti di libri game ma soprattutto grande esperto di questa diciamo particolarissima tecnica di scrittura ludica e soprattutto game designer e appunto con andrea abbiamo concordato deciso insieme di dedicarvi questa introduzione nel corso di questi primi due giorni quindi oggi venerdì e domani sabato ha un po un racconto di quelli che possono essere alcuni spunti alcune idee alcune indicazioni che vengono fuori dall'esperienza di un game designer di fama come andrea e quindi andrea ci aiuterà un po a capire nel breve volgere di una quindicina di minuti in due puntate appunto come si passa da un'idea da un'intuizione a un gioco di successo quindi quali sono i percorsi e le tappe in un excursus molto rapido che purtroppo dobbiamo fare per ragioni di tempo di un'attività che invece è molto complessa molto ricca e anche molto molto gratificante e in un discorso se dicevo che che verrà un po accompagnato dai racconti suoi personali delle sue esperienze e così via andrea allora diciamo che una dei sistemi per cui tu sei più conosciuto è quello che io chiamo il sistema of glory oggi nel senso da wings of war che era il titolo originale diventato poi wings of glory peraltro un sistema di gioco di combattimento di eri della prima guerra mondiale che ha continuato ad essere coerente poi si è passato si è passati si è affiancato un sistema che riguarda le guerre navali napoleoniche un altro bellissimo sulla fantascienza col battester galactica e poi chissà se in futuro non avremo anche altre incarnazioni esatto ci racconti un po l'intuizione la scintilla all'inizio e poi quello che è successo la scintilla iniziale è stata dovuta al fatto che ho sempre amato le simulazioni simulazioni anche molto complesse con a volte 8 16 32 64 pagine di regole tabelle così via c'erano anche simulazioni re molto belle e mi piaceva giocarli certo questa complessità non aiutava a trovare avversari e tutto quanto poi ho giocato down in flame che era un bel gioco di carte sui due aerei della seconda guerra mondiale ma un po troppo astratto non c'era la posizione degli aerei e mi è venuto in mente all'improvviso che forse per la gente che è nata non più studiando manuale di videoregistratore poi installandolo e usandolo o studiando un regolamento complesso spiegandolo agli amici e giocandolo ma provando un telefonino oppure mettendo cento lire in un mobile bar per giocare un videogioco imparare giocando oppure giocando al computer senza manuale prima si poteva forse fare qualcosa di molto più semplice facendo sì che tutti quei dettagli storici le differenze fra ieri eccetera fossero incarnati nei materiali ho pensato quindi già c'erano stati degli esempi come blu max di semplificazione ma era pur sempre un gioco con dieci fasi diverse ogni turno manteneva una certa complessità io ho pensato di fare delle carte manovra con delle frecce un'idea nata la sera chiacchierando con gli amici la notte questo devo dire non era il primo gioco che facevo cacciatori di viverne è stato il mio primo gioco in assoluto ed è nato da un'altra esigenza l'esigenza di fare i giochi può essere la più diversa volerli pubblicare voler giocare con gli amici cacciatori di viverne era perché avevamo il primo morem che era contemporaneamente gioco di ruolo e war game facevamo una campagna io ero l'arbitro tutti muovevano su una mappa io tenevo le posizioni di ciascuno quando si incontravano lo svelava all'avversario si combatteva sul tavolo ma le regole aeree di morem erano molto scarse e ne ho tratto questo gioco non è stato l'unico poi con gregoria leggi storico dell'aeronautica abbiamo fatto la squadriglia degli assi che era un gioco che è stato allegato dalla rivista aeronautica come poster anche qui cinque sei pagine di regole ancora un modello abbastanza semplice ma di vecchio stile con gli esagoni e tutti gli aerei del fronte italiano e insomma la passione per il gioco aeronautico c'era però una semplicità immediata come i libretti di Ace of Aces sorta di libri game illustrati dove sceglievi la manovra vedevi il risultato subito perché tutta la complessità era gestita dal libretto non c'era e Ace of Aces l'amavo difficile giocarlo in più di due ho pensato a questo sistema di carte una carta aereo vola sul tavolo io mi limito a scegliere tre manovre con delle frecce che al tempo stesso sono lo strumento con cui le scelgo niente carte penna segnare e anche il diciamo il righello con cui muovere la carta aereo ho preso delle carte bianche stile magic regalate da cartamundi e le pennarelli quindi quella notte ho fatto il prototipo dei cartoncini avanzati a un tipografo che uso anche qui per prototipi ecco qua il primo prototipo nato dalla sera della chiacchierata all'alba del giorno dopo il regolamento erano degli appunti buttati su un pezzetto di carta pescata accanto al camino dalla carta per accendere il fuoco e sono arrivato il primo prototipo da far giocare che dire avete visto io non sono un gran disegnatore quindi era una cosa piuttosto rosa non ho voluto intanto c'era la fretta di provarlo di solito non ho voluto mai fare dei giochi troppo complessi come materiali troppo curati anche perché all'inizio c'erano frecce rosse o nere a seconda se giravi destra e sinistra poi non le potevi fare due di seguito dello stesso colore cose di questo tipo ho semplificato dopo aver giocato lo scopo del collaudo è quello di ottimizzare il gioco quindi dopo le prime partite fatte con gli amici ho coinvolto anche Giorgio Paglia che è stato il primo a giocarlo come coautore e cosviluppatore queste prime partite sono servite a capire cosa funzionava e cosa no cosa era troppo complesso e si poteva semplificare cosa magari mancava il fatto di aver fatto un prototipo piuttosto rozzo dove tutto sommato potevo buttare tra i cartoncini e riscriverli anziché aver passato tanto tempo con impaginatori e cose di lusso o addirittura con disegni fatti apposta da qualcuno mi ha consentito di essere estremamente elastico di buttare via le cose senza rimpiangerle e rifarle da capo senza esitazioni il rischio altrimenti se fate da subito un bel prototipo è quello di innamorarvi un po' troppo oppure di aver investito troppa energia di avere delle resistenze a cambiare delle cose che invece è meglio poter modificare agilmente ovviamente magari serve qualche amico che sia disposto a giocare con dei materiali non proprio eccelsi a divertirsi lo stesso anche senza l'impatto di belle illustrazioni e bella grafica quindi potremmo dire che uno dei primi consigli che possiamo dare è credere nella propria idea però non innamorarsi dei suoi dettagli giusto? esatto in modo tale che si possa poi comunque essere pronti a migliorarla a metterla a punto veramente sì, è la massima disponibilità vedendo cosa succede nelle partite e volendo possiamo anche dire sentendo il consiglio degli amici che sono disposti a collaudare poi bisogna capire un attimo, magari sono amici esperti, vi danno ottimi consigli, magari sono giocatori occasionali con cui è perfetto giocare se il vostro gioco come questo ambisce ad andare a un pubblico generico, però magari vi danno dei consigli più ingenui, quindi non sempre il consiglio ovviamente è oro colato, però può essere sintomo di un problema che risolvete, se appunto magari vi dicono però io rifarei la condizione di vittoria o cambierei punti, magari il problema sta a monte nelle risorse che avete dato che hanno reso difficile raggiungere quelle condizioni di vittoria, non è detto che il consiglio che vi danno sia stampato, come dire, inciso nel marmo, però sicuramente le osservazioni che vi fanno possono mettere a punto i punti di maggior difficoltà o di lentezza o di noia e manipolando questo prototipo con grande apertura ciclicamente, partita, due partite, osservazioni, modifiche alle regole, modifiche ai materiali, nuove partite e così via, ciclando in una serie di, come dire, perfezionamenti, probabilmente arrivate a un bel gioco stabile e allora, ne parleremo domani, siete pronti per il test cieco, il blind play testing che è un momento focale e per il quale magari poi vale la pena di fare un prototipo un po' più raffinato, anche perché magari coinvolgete più giocatori, anche gente un po' meno disposta a giocare con cose troppo rozze e quindi su quello poi domani prenderemo questo filone. Se non si arriva a questo punto potrebbe anche essere un buon consiglio quello di buttare tutto nel cassetto e riprenderlo con freddezza dopo due, tre mesi, sei, non è detto che la vostra idea invecchi, anzi siete voi che guadagnate un po' di distacco e riprendendolo in mano dopo magari un po' più di oggettività che nel momento in cui vi siete accalorati o un po' appunto innamorati delle vostre idee, magari non riuscite a staccarvene abbastanza da modificarlo dove serve. Ok, allora diciamo che domani parliamo del passaggio, diciamo quello epocale all'interno di un gioco, cioè del momento in cui l'idea, il prototipo che è stata messa a punto con l'aiuto anche dei playtester, del proprio giro, fa il salto di qualità, va presso un editore e da lì poi comincia a ragionare, a trasformarsi in quello che poi sarà un prodotto. Domani, se sei d'accordo, chiacchieriamo anche un attimo di come poi nel tuo caso il gioco è diventato un sistema, nel senso che all'inizio abbiamo visto che c'era un aereo rosso e uno bianco e nel corso invece degli anni quell'aereo rosso e quell'aereo bianco sono diventate decine e decine di modelli aerei diversi che tra l'altro simulano la realtà, quindi a un certo punto tu evidentemente hai messo in piedi un modello matematico che consentisse la simulazione e la coerenza dei diversi modelli. Diciamo che già nella prima fase, la primissima notte di gioco i mazzi erano quelli, però già cercavano di rappresentare la realtà. Per dire, quel Fokker BR1 e quel Sopit Camel avevano un motore rotativo che girava su se stesso e che faceva sì che l'aereo tendesse a girare facilmente in direzione diversa, verso destra e quindi c'erano delle curve a 90 gradi verso destra che non c'erano verso sinistra. Perché cercavo, avevo in mente quelle simulazioni che magari facevano la stessa cosa dando una serie di punti da spendere ogni turno e dando dei costi per ogni lato di esagono e dei costi minori verso destra che verso sinistra. Qui semplicemente il giocatore prende il suo mazzetto di frecce, le usa e inconsapevolmente ha un aereo che gira solo verso destra. Se poi lo smonta, lo guarda, si accorge di questo dettaglio e magari se si informa capisce pure perché. E in questo mazzo c'erano tante cose. La vecchia simulazione magari dava 7 punti di movimento per il Fokker del Barone Rosso che faceva 160 all'ora e 9 per lo spado di Baracca che andava a 220. Io semplicemente ho fatto frecce più lunghe e più corte, non punti che poi un giocatore doveva gestire e spendere. Diciamo, questa complessità c'era già potenzialmente qua dentro. Poi negli anni il gioco si è allargato, si è arricchito di altre regole, sono venuti i modellini, quello poi lo vedremo. Diciamo che quello che volevo qui era un gioco che potesse andare in mano a chiunque ma che avesse spiegato in due minuti lo stesso a ricchezza e accuratezza dei giochi di un tempo. Poi ci possono essere finalità diverse. I carciatori di Viverne, visto all'inizio, era nato per completare un gioco che era un po' scarso in termini di combattimento aereo. La squadra degli assi per propagandare sul notiziario giovani del Ministero dell'Aeronautica la storia dell'Aeronautica e quindi lì la scelta era quella di tutti gli eri italiani. Non è detto che l'ispirazione sia per un gioco così, da giocare o da mettere sul mercato. Ci possono essere dei giochi, un insegnante potrebbe farli proprio magari per far apprezzare la storia o la letteratura ai suoi alunni. Io potrei fare un gioco semplicemente per il gusto di giocarlo con gli amici, come Bang, gioco di carte western che ha venduto 3 milioni di pezzi fra scatole base e espansioni. è nato perché Emiliano Sciarra voleva giocare a Natale, qualcosa che non fosse il solito mercante in fiera, con i nonni, con i cuginetti e quindi ha fatto un gioco semplice di carte però ambientato nel west originale, è piaciuto agli amici del circolo di scacchi e poi ha detto ma forse potremmo anche provare a venderlo e gli ha detto bene. Lo stesso Wings of War era nato come un mazzetto da 66 carte, economico perché pensavo un giochino del genere forse lo comprerà qualcuno, non lo so, non si può pretendere molto. Allora facciamolo, come dire, poco esigente in termini di economia d'impegno. Roberto Di Meglio ci ha creduto, della Nexus, ha detto no mettiamo il doppio di carte, segnalini, righelli, una scatoletta e poi sono diventati modellini eccetera. è andato molto al di là di quello che io sperassi. Però appunto, diciamo, le necessità, io faccio molti serious game, allora un po' come il gioco della squadrina degli assi, magari si parte dal fatto che un'azienda vuole promuovere un concetto, un messaggio, un prodotto, sensibilizzare. Con Giovanni Caron avevamo fatto Automarket in cui si assemblavano dei pezzi di automobili con contratti per motori, carrozzerie in giro per il mondo e poi li si vendeva nei vari continenti con valute diverse. Eravamo ai primi anni 90 e l'UNRAE, Unione degli Importatori di Auto, ce l'ha chiesto per far capire che il protezionismo non serviva, tanto le auto italiane si facevano buono. Insomma, potete trarre ispirazione dove volete, finalità essere diverse, però poi arrivate al prototipo e quando siete pronti, lo vedremo domani, quando avete un gioco stabile, lo affidate al pretesto in cieco. E domani parleremo appunto di questa fase, come vedete Andrea Angiolino è una fonte di ispirazione, di esperienze, di storie e purtroppo appunto il tempo di questa pillola è terminato. Noi ci rivediamo tra poco per altre novità da Luca Comics & Games. Ringraziamo Andrea, l'appuntamento è domattina alle 11 insieme per aprire la seconda giornata e noi adesso andiamo avanti con questa prima giornata di Luca Comics & Games. Restate sintonizzati, restate collegati alla rete perché tra poco torniamo. Ciao, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti